Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto, se anche tu come me lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno e ti ringrazio. Oggi ti parlo di Honda CB650 SC Nighthawk del 1984. Questa moto, che ha il nome di Falco della Notte, è stata presentata appunto in quest'anno con l'intento di comporre una moto che sia gestibile, di facile approccio, facile anche nella guida rispetto a quelle che sono le moto super sportive che cominciavano appunto a spopolare in quegli anni. E quindi la Honda Nighthawk 650 ha come caratteristica l'originalità delle linee col fanale anteriore squadrato, uno degli elementi sicuramente caratteristici, in contrasto poi con le linee curve che caratterizzano il resto della moto. La scelta del fanale rettangolare anticipo però di gran lunga quelle che sono le oderne stradali che montano appunto dei gruppi ottici molto appuntiti, molto particolari e sagomati rispetto al faro circolare che è sempre stato storicamente la forma più adatta ad un faro. Infatti poi la moto ha altre caratteristiche estetiche dopo le vediamo molto interessanti come la forma goccia del serbatoio tipica appunto delle moto con la moda della moda custom, mentre il telaio una doppia culla quindi piuttosto tradizionale. La sella e la parte posteriore si ispirano poi alle moto di tipo naked, quindi una moto che ha una sua personalità ben precisa. Altra scelta controcorrente direi è la scelta del motore che è un quattro cilindri, anche qui poco consueta sicuramente per una moto custom e questo quattro cilindri e 16 valvole in linea fronte marcia con raffreddamento misto aria e olio ha delle caratteristiche appunto molto interessanti per quanto riguarda la potenza, poi lo vediamo più nel dettaglio. E infine ultimo elemento così distintivo, anche questo fondamentale, proprio la trasmissione cardanica, quindi la moto è dotata appunto di un albero cardanico per la trasmissione. Lo scarico poi è un quattro in due cromato con i due ammortizzatori posteriori e molto interessanti un po' tutte le parti della moto che conferiscono appunto un'estetica veramente unica. Il manubrio è un po' più alto rispetto alle moto stradali, quasi a corna di buio, insomma quindi ha questa linea sicuramente più rialzata del solito e le conferisce con uno stile insomma grintoso e per concludere i cerchi anche questi particolari sono in lega leggera. Quindi detto questo sul quadro della moto andiamo a riconoscere appunto queste caratteristiche e la vediamo come appunto una moto che guardandola ha delle caratteristiche veramente originali. Tanto per notare la forcella stile avanzato, il manubrio vediamo che è rivolto prevalentemente verso la parte posteriore, anche la sella molto particolare divisa in due parti, quindi in qualsiasi parte si guardi la moto appare veramente come unica nel suo genere per le sue caratteristiche. Quindi veniamo a parlare del motore, un quattro cilindri, linea, raffreddamento misto, aria ed olio e naturalmente quattro tempi con una cilindrata di 655 cm3. La distribuzione al doppio albero a cam in testa con quattro valvoli per cilindro con l'alimentazione fornita da una batteria di quattro carburatori della Mikuni. La potenza massima è di 72 cavalli a 9.500 giri al minuto con un coppio massimo di 5,9 kg a 8.000 giri al minuto. Il telaio è un tubolare in acciaio a doppia culla con la sospensione anteriore formata dalla forcella telescopica della Showa con gli steli da 39 mm. Il freno è un doppio disco, anche questa caratteristica un po' particolare, da 260 mm, mentre la sella è alta 795 mm da terra. Abbiamo detto che la trasmissione finale è d'albero cardanico. Il posteriore poi siamo in presenza del forcello oscillante con i due ammortizzatori, ben visibili nell'immagine, regolabili e la presenza del freno a tamburo. Le ruote sono in lega leggera e da 19 pollici all'anteriore e 16 pollici con questa grande gomma di dimensioni notevoli al posteriore. Il serbatoio è da 12,9 litri, quindi abbastanza piccolo, ma d'altronde la moda custom lo impone con la forma a goccia del serbatoio stesso. Il peso secco di 187 kg, tutto sommato abbastanza per contenuto per il tipo di moto, con una velocità massima dichiarata di oltre 190 km orari. Se ti è piaciuto il video metti like se non ti è piaciuto, dislike ma iscriviti al canale e attiva la campanella per due motivi. Primo è gratis, non ti costa assolutamente nulla ma contribuisci alla diffusione del canale e ti ringrazio. In secondo luogo faccio un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato aggiornato sui nuovi contenuti. Qui sotto i tuoi commenti sono sempre molto graditi. Ciao, grazie mille per l'attenzione e buona serata.